fratelli d'italia e sorella huawei amici di come donkey shot ben ritrovati con il tecno ribelle miracoli dell'urna dal 2 al 26 per cento in soli dieci anni fratelli d'italia pesa oltre 7 milioni e 300 mila voti cioè 5,9 milioni di preferenze in più rispetto a quattro anni fa diventato oggi indiscusso primo partito il più votato dagli italiani no all'introduzione di strumenti di controllo digitale di massa e di compressione delle libertà individuali o a meccanismi di scoring come la cittadinanza a punti su modello cinese si legge il programma elettorale al capitolo 12 contrasto alla censura arbitraria dei social network garanzia del rispetto della libera manifestazione del pensiero da parte delle grandi piattaforme di comunicazione straordinario wow e vai grande Giorgia Meloni se non fosse che al capitolo 18 tra le righe c'è però scritto investire su smart road cioè sulle infrastrutture per le prossime automobili a guida senza conducente per la transizione ecologica da realizzare grazie a milioni di antenne che irradieranno agenti possibili cancerogeni e ancora capitolo 2 del programma si legge il PNRR rappresenta una grande occasione per la modernizzazione dell'Italia riferendosi ai fondi europei del piano nazionale di ripresa e resilienza che nella transizione digitale e spaziale di Vittorio Colau offrono la bellezza di oltre 40 miliardi di euro domanda come è possibile coniugare l'avanzata del 5G delle smart city e della gigabyte society con la sovranità digitale la regolamentazione dell'intelligenza artificiale mettendo il cloud sotto controllo pubblico come vorrebbero i fratelli italiani semplice non si può se non con sterili compromessi e mediazioni la prova è che a ridosso delle elezioni in un'università del Comasco la destra anticipando le mosse degli attori si è prestata per un convegno con Colau e sei amministratori delegati delle maggiori aziende di telecomunicazioni ci sono delle circostanze e una congiuntura astrale favorevole allo sviluppo delle tecnologie e del digitale parola di Alessio Butti oltre che provetto astrologo per profetiche congiunzioni stellari sotto il segno dei pesci deputato e responsabile dipartimento media e telecomunicazioni di Fratelli d'Italia è scattato un muro contro muro che ha fossato il 5G si è fermata la corsa alla tecnologia internazionale si sono fermate le cooperazioni tra università e ricercatori dei vari paesi molte parti del mondo hanno fermato le macchine sul 5G ma l'Italia deve riflettere su un tema così complesso ecco una delle riflessioni che evidentemente la Meloni deve avere iniziato già da qualche anno prima ancora dell'ingresso nell'Aspel Institute tra i poteri forti quando nel 2019 un'inchiesta dell'Espresso che arriva come insieme alla multinazionale pretorifera statunitense Exxon anche il 5G cinese di Huawei risultasse segreto finanziatore del partito erede della fiamma di Giorgio Almirante serve una politica industriale attiva e il 5G è un tassello indispensabile in quest'ottica interconnesso con l'Agenzia per la Cyber Sicurezza Cloud Nazionale la rete a banda larga e le sue interconnessioni marittime dice il senatore Adolfo Urso presidente del Copas il comitato di controllo parlamentare sull'operato dei servizi segreti italiani ai tempi giovanili del movimento sociale italiano però nella corrente il domenico Minnitti fervente atlantista e oggi assertore del Golden Power Urso ma tra patrioti e tricolore c'è pure l'eccezione vera e propria mosca bianca il senatore Andrea De Bertoldi l'unico da destra ad essersi dichiarato favorevole ad una moratoria nazionale sul 5G un'emergenza per la salute cittadini miccavi e inconsapevoli degli effetti dell'elettrosmog nella prossima legislatura affiancato da domenica Spinelli neoeletta tra gli scranni di Palazzo Madama al tempo in cui era sindaco di Coriano a Rimini in testa nella rete dei sindaci per la moratoria 5G un'ingerenza sui comuni grosso rischio sanitario ripeteva la Spinelli impettita schierandosi dalla parte dei cittadini e domani chiediamolo a Giorgia Meroni sorella Huawei presidente del consiglio dei ministri in pectore qualcuno l'ha avvisata? per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G salute ambiente geopolitica privacy transumanesimo controllo sociale libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale terra nuova edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci che e grazie a tutti per aver guardato